La Giunta regionale, nella seduta di ieri, ha stabilito di disporre interventi di supporto ai comuni costieri per l'approvazione dei biani comunali delle spiagge. Da una recente ricognizione del Dipartimento regionale Territori e Tutela dell'Ambiente, risulta infatti che circa il 50% dei comuni costieri non è dotato dello strumento di pianificazione. La Giunta, spiegano dalla Cittadella, riconoscendo l'importanza strategica e il valore ambientale del bene spiaggia come risorsa naturale e turistica, con una precedente delibera, ha dato indicazioni procedurali ai comuni costieri per la gestione delle concessioni dei maniali marittime in vista della prossima stagione estiva. L'obiettivo è anche quello di garantire a tutti i cittadini, attraverso una corretta pianificazione, il diritto al libero uso del bene collettivo spiaggia, riservando alla libera balneazione almeno il 30% dell'area Emile, in un'ottica di solidarietà sociale, finalizzata alla pubblica fruibilità della risorsa mare, assicurando la conservazione degli ecosistemi costieri, promuovendo un uso responsabile del territorio attraverso iniziative che rispettino i principi di sostenibilità ambientale. La Regione quindi, nell'ambito delle funzioni di indirizzo generale e di verifica dello stato di attuazione della programmazione, intende fornire una concreta collaborazione a favore delle amministrazioni comunali delegate alla gestione delle aree dei maniali marittime nella fase di predisposizione degli atti e nel complesso itere di approvazione dei PCS o del loro adeguamento. Pertanto, l'atto deliberativo approvato ieri, prevede un intervento di sostegno a favore delle amministrazioni comunali delegate all'esercizio dei compiti riguardanti la gestione delle aree dei maniali marittime nella predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione dei piani spiaggia. I comuni dovranno avviare le procedure di rispettiva competenza volte all'approvazione e all'aggiornamento dei PCS, se intendono aderire all'iniziativa della Giunta, potranno richiedere il supporto con istanza da presentare al Dipartimento sulla base di apposita manifestazione di interesse per individuare il fabbisogno necessario. I comuni, che non intendono partecipare, dovranno invece procedere autonomamente all'approvazione del PCS nei tempi stabiliti dalla delibera. Il mancato rispetto dei termini di approvazione sarà considerato in adempimento e comporterà l'intervento sostitutivo della Regione, con conseguenza nomina di un commissario ad acta. L'esecutivo, sempre ieri, ha approvato anche lo schema di statuto dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali, avviandone di fatto l'operatività. Via libera, infine, al regolamento di attuazione della legge regionale 18-2007 in materia di usi civici in esecuzione delle modifiche apportate con le entrate in vigore della legge regionale 4-2024.